Bombarda la sua prima stagione nel Melgest 32 e oggi fa addirittura un primo posto. L'armatore come è andata? Direi benissimo, naturalmente quando si vince è sempre una cosa positiva, c'è da fare tantissimo lavoro perché effettivamente mi rendo conto che il livello è altissimo, che noi siamo sicuramente messi molto bene, abbiamo un ottimo equipaggio, Flavio è veramente in gamba, io sono un neofita e arrivo da altri sport e quindi ho poca esperienza dal punto di vista della regolamentazione, degli incroci e di quant'altro, però diciamo che partire con una vittoria sicuramente ci rende molto felici. L'affiatamento con Flavio Favini quindi è stato trovato subito? Sì, assolutamente, direi che Flavio per me prima che sia un tattico di livello sicuramente internazionale è un grande coach, mi ha insegnato tantissimo in pochissimo tempo e devo dire la verità che anche in regata e in barca riesce a darmi molta molta tranquillità, questo è veramente molto importante. Tu dicevi che vieni da altri sport, quindi cosa hai fatto prima di arrivare alla vela? Sì, prima motociclismo, tanti anni quando ero più giovane, anche se sono sicuramente ancora molto giovane e ultimamente ne arrivo dall'automobilismo, dai rally, uno sport direi completamente diverso, però sicuramente molto adrenalinico come questo sport. E la passione della vela è nata quando? È nata da direi un anno, questa oggi è la mia prima regata ufficiale, quindi diciamo che è andata fin troppo bene. È andata benissimo allora, grazie, complimenti ancora.